A tutti voi buonasera dalla Tg Max, in apertura c'è la cronaca, sale l'allarme criminalità a Vasto dove la scorsa notte 5 colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina di un bar. Cinque colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'alba contro la vetrina di un bar a Vasto in via del Porto in un'area di servizio. A poca distanza dallo svincolo, con la strada stata alle 16, la scarica è stata chiaramente avvertita dai residenti della zona. I proiettili utilizzati sono calibro 7,65. Dalle tracce lasciate i malviventi presumibilmente sono arrivati in auto senza entrare nell'area del distributore, ma rimanendo su via del Porto e hanno fatto fuoco dall'auto per poi ripartire a tutta velocità. Per fortuna a quell'ora nel bar non c'era nessuno. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri insieme alla scientifica, al vaglio degli investigatori, le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del bar. Sul nuovo episodio di criminalità in città si registra il commento di Marco Di Michele Marisi, responsabile Giovani in Movimento. Giusto il tempo di venire a far visita a Vasto, cercando con grande imbarazzo di dare una lettura dei dati sulla criminalità nel nostro territorio. Ed ecco che quella fiducia possibile di cui il vice ministro dell'interno del governo Renzi, Filippo Bubbico, accennava nei suoi interventi in municipio, è stata crivellata da colpi di arma da fuoco. Se il sindaco La Penna ha cercato di far dire al numero 2 del Viminale che non c'è da preoccuparsi troppo della criminalità nella nostra città, ha aggiunto Marisi, i fatti di oggi rispondono meglio di ogni altra replica. La fiducia puzza di polvere da sparo e non c'è nulla di cui andare tranquilli. Banda in fuga dopo il tentato furto di un carico di pesce congelato da un'azienda di controguera del valore di 80 mila euro. Quintalli di pesce da ricettare avrebbero preso il largo nella notte tra sabato e domenica se non fosse scattato l'allarme. Il sodalizio criminale aveva raggiunto con trada Piane Tronto a controguerra a bordo di un auto articolato con cella frigorifera rubato ad Orta Nova in provincia di Foggia. I ladri sono riusciti ad aprire il magazzino frigorifero e con un muletto dell'azienda avevano iniziato a caricare i bancali di merce. È però scattato l'allarme e la vigilanza privata ha allertato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato le confezioni di pesce in parte già caricate sull'auto articolato rubato. I ladri non c'erano più, le indagini proseguono. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale oggi si è ufficialmente costituita la nuova società unica di trasporti regionali, TUA SPA. Con tre assemblee straordinarie distinte ma contestuali le società di trasporto pubblico regionale ARPA, Ferrovia Adriatico-Sangritana e Gestione Trasporti Metropolitani hanno varato oggi a Pescara il progetto di fusione per incorporazione in ARPA approvando lo statuto sociale della nuova società e il piano strategico 2014-2019. Nella seduta del 16 marzo la fusione, così come previsto dalla legge regionale approvata lo scorso dicembre, aveva avuto il via libera del Consiglio regionale. La nuova società denominata TUA SPA, cronimo per indicare Trasporto Unico Abruzzo, sarà soggettata al controllo della regione unica proprietaria delle quote. Trascorsi da oggi 60 giorni per consentire eventuali opposizioni, si procederà all'atto di fusione vera e proprio con l'elencazione dei beni mobili e immobili. Intanto si abbia l'iter per l'iscrizione di TUA al registro per le imprese. Per effetto della fusione per incorporazione, ARPA SPA subentra in tutto al patrimonio attivo e passivo e ai rapporti giuridici attivi e passivi delle due società incorporate. TUA avrà sede legale a Chieti e due sedi operative, una a Lanciano e l'altra a Pescara con 1.620 dipendenti. Sarà strutturata in due divisioni, Trasporto Ferroviario e Trasporto Automobilistico su gomma, il capitale sociale di 39 milioni di euro. La nuova società avrà in dotazione 890 autobus e 38 treni e per dimensioni si colloca come valore della produzione in chilometri e ricavo da traffico tra le prime in Italia. Dal pomeriggio di oggi sono scattate le ricerche del 17enne di origini ucraini, residente con la famiglia adottiva nel territorio della Valle Peligna. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe fatto perdere le tracce di seda questa mattina. Preoccupatissimi, i familiari del minorenne si sono rivolti alla polizia e hanno sporto denuncia. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri, i vigi del fuoco e i volontari della protezione civile. Rimborsopoli, il GIP del Tribunale di Pescara ha accolto la richiesta della Procura archiviando le posizioni di 15 politici. Escono definitivamente di scena dall'inchiesta su presunti rimborsi facile la regione 15 politici. Il GIP del Tribunale di Pescara ha accolto la richiesta della Procura di archiviare le posizioni degli ex assessori e consiglieri regionali Lanfranco Venturoni, Carlo Costantini, Federica Carpineta, Giorgio De Matteis, Cesare D'Alessandro, Riccardo Chiavaroli, Franco Caramanico, Nicola Argirò, Emilio Nasuti, Alessandra Petri, Antonio Prospero, Lorenzo Sospiri, Giuseppe Tagliente, Luciano Terra e Nicoletta Veri. Inizialmente il fascicolo era stato aperto a carico di 25 politici accusati a vario titolo di truffa peculato e falso. Per tre ex assessori regionali coinvolti nell'inchiesta, Mauro Di Dalmazio, Angelo Di Paolo e Gianfranco Giuliante, nei giorni scorsi è stata invece fissata per il 5 maggio prossimo la prima udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Pescara. I tre sono accusati di peculato. Di Dalmazio deve anche rispondere di truffa. All'ex assessore al turismo vengono contestate una trentina di missioni, mentre l'utilizzo improprio della carta di credito della regione viene contestato anche a Giuliante e Di Paolo. Stralciate da tempo per competenza territoriale le posizioni dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi, dell'ex presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano e degli ex assessori regionali Alfredo Castiglione e Paolo Gatti, Luigi De Fanis, Mauro Febbo e Carlo Masci. A giudicare le loro posizioni saranno le procure di Roma, Verona e Rimini. Incetta di premi per gli oli abruzzesi al Sol di Verona, assegnate una medaglia d'argento, tre di bronzo e quattro gran menzioni. La produzione ridotta del 70% a causa della mosca olearia che ha colpito soprattutto l'area costiera, non ha scalfito la qualità dell'olio extravergine abruzzese che a Verona ha fatto incetta di premi. Quattro premi sui 15 assegnati a livello internazionale dalla commissione degli esperti del Sol sono andati ad altrettanti produttori con un Sol d'argento e tre di bronzo, oltre a quattro gran menzioni e riconoscimenti dal Gambero Rosso, da Slow Food e riviste di settore. L'esperto Marino Giorgetti. Sicuramente in un'annata così travagliata non ci aspettavamo che i nostri produttori riuscissero a fare oli di qualità, ma addirittura di gran qualità, se tenete conto che sui circa 250 oli internazionali presenti al concorso Sol d'oro ben quattro aziende sono salite sul podio e altre tre hanno avuto la gran menzione. Quindi un successo insperato in un'annata veramente tragica, a testimonianza della grande professionalità che i nostri produttori hanno raggiunto e dell'amore, della dedizione, che il tracciato della qualità è veramente entrato nel DNA di questi produttori che riescono anche in annate tragiche come quella appena trascorsa a competere con oli, non dico italiani, ma addirittura internazionali e riuscire a salire sul podio con tre medaglie di bronzo e una d'argento. Quindi sicuramente un grandissimo successo per l'Abruzzo Oleicolo. Il pluripremiato nell'edizione 2015 è Tommaso Masciantonio di Casoli con il Sol di bronzo per la categoria biologico, la gran menzione per il fruttato intenso, le tre foglie del gambero rosso e il premio azienda dell'anno. È il terzo anno consecutivo che saliamo sul podio, quest'anno vale ancora di più perché è un'annata, come ha detto, abbastanza complicata, se vogliamo, per il mondo leario, però vale sicuramente il doppio. E poi anche premi del gambero rosso con tre foglie e non solo. Sì, è stata una grande sorpresa per noi ricevere questo riconoscimento speciale e come miglior azienda dell'anno e mi ha emozionato veramente tanto riceverlo. Ci sono anche altri premi? Sì, ci sono tanti altri premi che sono già arrivati e spero continueranno ad arrivare. Che cosa aspettarsi allora dal futuro? Ma questa è una bella domanda. Sicuramente far crescere ancora ulteriormente la conoscenza di questo oro liquido che abbiamo in Italia e far conoscere ancora di più questo prodotto abruzzese che vale veramente tanto. Dall'olio al vino sono 80 le aziende del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo presenti alla 49esima edizione del Vinitaly, una vetrina importante, ha detto il Presidente Verna, per far conoscere al mondo i valori e la storia dei nostri territori e dei suoi frutti. L'Abruzzo al Vinitaly con il Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Presidente Tonino Verna, quanto è importante fare promozione ed essere presenti al Vinitaly per le aziende abruzzesi? Allora, siamo appena tornati da Düsseldorf con 45 aziende abruzzesi che hanno partecipato a quella fiera, riscontrando grande successo. Oggi apriamo con un po' di stanchezza ma con tanto spirito di intrapresa Verona. Verona siamo presenti con 80 aziende, ma non siamo presenti materialmente e vogliamo a Verona pubblicare il vino d'Abruzzo. Noi vogliamo comunicare i valori del vino d'Abruzzo, che è una cosa molto diversa e anche molto più difficile da portare a casa. Comunicare significa dire le eccellenze che i nostri produttori hanno raggiunto con i vitigni che coltiviamo nel nostro territorio, dal Montepulciano al Trebbiano, agli autoctori scoperti, Pecorino, Passerina, Coccciola e Mondonico. Ma dobbiamo comunicare la storia e le tradizioni dell'Abruzzo Enoico, i nostri territori, le nostre colline che in pochissimi minuti, noi stiamo dal livello del mare a 2000 metri e su questi pochi chilometri si dispiegano le nostre colline dove i terroiri cambiano da provincia in provincia e dove noi abbiamo anche con lo stesso vitigno caratteristiche organolettiche di profumi diversi. Quindi questa è una ricchezza che noi dobbiamo comunicare e questa si può solo comunicare, non si può pubblicizzare. Questa è la missione che il Consorzio sta cercando di svolgere nel corso di questi anni. so che è un'impresa difficile, ci impegneremo ancora di più e buon venite a tutti. Ed ora la pagina sportiva, la Virtus, dimostra di steccare momenti cruciali della stagione. Domenica nello scontro diretto contro Lentella, i rossoneri cercheranno di archiviare la pratica salvezza. Virtus che si perde sempre sul più bello, ciccando puntualmente la classica prova di maturità, quasi che abbia paura di diventare grande. Un vero peccato la sconfitta di Vercelli contro avversari che non hanno fatto un granché, ma che hanno messo in campo perlomeno più fame di punti. In pochi, tra i rossoneri si sono salvati dal grigiore generale. Squadra per troppi minuti molle, poche idee, un attacco che stavolta non ha brillato. Eppure la Virtus è andata vicinissima al pareggio. Il grande rammarico di mister D'Aversa. È la cosa che mi dà più fastidio, sentire che magari la squadra avversaria vince perché ha più voglia della mia. È la cosa che mi può dare più fastidio, perché avrei preferito che magari sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della prestazione, ci fossero stati superiori. Ma penso che alla fine della partita abbiamo pagato quei cinque minuti dove abbiamo concesso questi due gol su palline attive. Il primo è un po' fortunoso, casuale. Il secondo, comunque, sapevamo le caratteristiche di Marchi, che comunque è uno dei giocatori più pericolosi a livello di gioco aereo. Poi siamo stati bravi a accorciare le distanze. È peccato perché avremmo potuto anche pareggiare sia con l'occasione della traversa sia con l'occasione di piccolo. Però purtroppo il risultato ci ha negato questo. Squalificato Bacinovic da valutare le condizioni di Federico Amenta toccato duro alla caviglia. Il prossimo avversario sarà di quelli da non fallire. Arriva Lentella in uno scontro di ratto che potrebbe chiudere definitivamente il discorso salvezza. Per altri sogni conviene per adesso non parlarne. La zona playoff non è lontanissima, ma nel girone di ritorno i rossonieri troppo spesso sono andati in panne. La classifica attuale in pratica vive di rendita su quanto di buono messo insieme nel girone di andata. E meno male, altrimenti sarebbero stati dolori e apprezzioni. Sul fronte bianca-azzurro il Pescara è proiettato alla sfida playoff di sabato prossimo sul campo dello Spezia. Non ci saranno Bjarnason e Memuschai dopo lo 0-0 contro il Bari. Tanti motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno. In fondo va bene anche così. Lo 0-0 con il Bari è stato il classico bicchiere mezzo pieno. Intanto perché il Pescara era reduce dalla vittoria sul campo del Carpi capolista e poi perché contro i Galletti non si è rischiato quasi nulla. E visto che anche le altre squadre in lotta per i playoff vanno a rilento, inizia a diventare importante non perdere. Sei partite utili, quelle della squadra di Marco Baroni con quattro vittorie e due pareggi. Aggiungiamo che il Pescara ha sempre trovato difficoltà a costruire il gioco, quindi in casa, e che l'intera catena di destra è stata adattata con Pucino, che non è Zampano in fase di spinta, e con Pasquato, che ha caratteristiche differenti da Politano e Gessa. E allora si guarda avanti alla trasferta di sabato prossimo alla Spezia, quella sì che sarà una sfida diretta per i playoff con i Liguri che sono in gran spolvero. Rientreranno gli squalificati, tornerà a disposizione anche Selasi, ma proprio a centrocampo non ci saranno né Biarnason né Memushai, e il prezzo da pagare alle nazionali, in questo caso di Islanda e Albania, per le qualificazioni europee. L'islandese è anche squalificato, davvero un peccato, poiché Biarnason era diventato una certezza nello scacchiere di Marco Baroni, presente ovunque. Così come il gigante Salamone, ormai un perno della difesa, e Melchiorri resta immarcabile in attacco. Infine, dopo due trasferte vietate a Chiavari e Carpi, i tifosi biancazzurri potranno tornare a viaggiare proprio alla Spezia. Alleluia! E questa sera un nuovo appuntamento con Virtus Lanciano, trasmissione rosso-nera ufficiale. È tutto, vi ricordo che servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie per essere rimasti con noi e arrivederci a domani. Grazie.